Buonasera, sono al corso bilanci del professor Brancozzi qui a Fano. Il corso è veramente strepitoso. Abbiamo sicuramente appreso delle notizie veramente interessanti che danno uno slancio professionale veramente importante. Io sinceramente avevo fatto già una mia preparazione, vengo da una preparazione da ragioniere ma in questo corso ho appreso delle cose importantissime che mi daranno sicuramente uno spazio commerciale e con una certa disinvoltura possiamo affrontare le cose semplici e divertenti. Questo corso penso di consigliarlo a tutti i nostri consulenti perché effettivamente è molto bello è brioso. Poi il professor Brancozzi con le sue battute lo rende veramente semplice e assolutamente anche con una certa ilarità. Per cui ve lo consiglio veramente a tutti.